Via i saldi. Il 2021 dell'economia bitontina è partito dal 7 gennaio con sconti e offerte su tanti prodotti, in particolare su capi di abbigliamento, scarpe e accessori. I commercianti già in difficoltà si rimettono in gioco e cercano di evitare il peggio date le conseguenze che la seconda ondata ha e sta ancora procurando. Stiamo soffrendo il fatto che almeno noi principalmente come negozio da bambini, non avendo nessun tipo di occasione o comunque i bambini stessi facendo didattica a distanza, stando sempre in casa, non escono, non sentono la necessità i genitori di vestirli e quindi niente, non si sta vendendo molto meno. Uno dei problemi principali legato sicuramente al Covid è non avere la libertà massima di fare entrare la gente, farla aspettare fuori dal negozio sicuramente non è il massimo, normalmente siamo abituati ad essere molto disponibili a fare entrare la gente tranquillamente senza problemi e invece a causa del Covid purtroppo più di un certo numero non può entrare all'interno dell'attività. E' stata una cosa molto distruggente proprio, proprio seriamente parlando e non so se effettivamente riusciremo ad uscirci da questa pandemia, soprattutto dal livello economico proprio. La gente sta chiedendo insomma di pagare con la carta di credito rispetto al contante insomma. Sì, sicuramente il pagamento con le carte proprio si è triplicato, siamo quasi per me al 90%, c'è il contante non se ne vede più. Con il cashback, senza cashback alla fine non è cambiato assolutamente nulla, chi pagava col contante continua a pagare col contante, chi pagava con la carta continua a pagare con la carta. Pochi purtroppo gli acquirenti, nonostante la zona gialla. Sinceramente stiamo solo guardando. Avete insomma, ci sono stati dei limiti negli acquisti in questo periodo? Eh certo, purtroppo. E come la state vivendo? Eh non molto bene, siamo una famiglia numerosa quindi di conseguenza le spese da affrontare sono tante, i soldi che entrano sono pochi e si fa quel che si può. Avete richiesto il buono del comune? E il buono spesa? Sì. C'è troppa crisi. Oggi come oggi non si può. Quindi facciamo giusto una passeggiata in giro per negozi. Cerchiamo di far vivere pienamente il commercio locale e invito anche gli altri amici, colleghi a fare la stessa cosa. Basta con le spese su Amazon e su tutto quello che è in piattaforma. Perché i negozianti hanno tanto bisogno del contributo di ognuno di noi. La speranza è quella di rimettere in moto un'economia che a poco a poco si sta spegnendo e che lascia presagire scenari spiacevoli. Semplicemente stiamo svendendo la merce, cioè al di sotto di quello che è il costo nostro. Tutto qua. È l'unica arma che abbiamo al momento. Abbiamo messo i prezzi, insomma, meno di quanto li paghiamo, pur di concretizzare, un po', insomma, di far muovere un po' le vendite. Coraggio e ambizione, gli ingredienti per venire fuori da un tunnel che sembra davvero non voler mai finire.